Amici delle case di Paglia, oggi non parliamo di case ma parliamo di chiese. Mi trovo a Riola, sull'appennino bolognese e sono venuto a vedere l'unica opera di architettura realizzata in Italia dall'architetto finlandese Alvar Alta. E come vedete, si può prendere spunto anche per fare la propria casa, è uno spazio molto luminoso. Non sono presenti luci alle pareti ma l'unica fonte di luce è quella naturale che viene dalle finestre qui sopra. Ci sono dei finestroni molto ampi. Si dice appunto che la chiesa abbia un umore sulla base del tempo all'esterno. Più chiaro nelle giornate di sole come questa e più scura durante le giornate più buie. invernali. Guardate che bellezza. Ciao, ci vediamo nei prossimi video.